Allora, primo tempo, quando il nonno parla e voi lo dovete ascoltare, cosa vi avevo detto? Attenzione al Real Sociedad, veloci, giocano in casa, driblano e al centrocampo ci stanno facendo un culo quanto un cappello. Aslani, dove cazzo sei? Barella, che cazzo hai? Ma un albanese può giocare a pallone? No dai, smettila, vedi sti gobbi cosa dicono, vedi, razzista, un albanese può giocare a pallone, sì, ma dove sei? Cioè io non ho capito, ma Bastoni è difensore centrale l'ha messo, cioè difensore centrale Bastoni lento come una tarda e poi Bastoni, ma che cazzo fai? Ma che cazzo? Simone, dai Simone, dai Simone, non lo vedi che al centrocampo ma ti stanno mangiando? 3-5-2, vabbè, ma quello non cambierà mai, è come quello tuo, no? Cioè hai capito? Dai, dai ragazzi, dai su ragazzi, cioè non hai fatto un tiro, non hai fatto un tiro in porta, poi con Arnauto devi titolare dove cazzo fai? Dai, forza ragazzi, vedi che c'ha l'anoglu al centrocampo, è tutto. Ma mettimi frattesi adesso che si inserisce al centro, dai Simone, dai Dio Bono, dai, dai Stella, dai che cazzo sono questi? Hanno preso quattro pali e tre traverse, cioè hai capito? Io voi al nonno lo dovete ascoltare, la conosco sta squadretta basca io, li conosco, Pirloni, forza Inter Dio caro.